Eccomi, sono Alberto Vetroni, attore, età scenica che oscilla tranquillamente tra i 45 e i 60 anni, nato in Salento, dove c'è l'usule, l'umare e l'ugliento, esattamente a San Pietro Vernotico. Nelle mie vene però scorre anche sangue partenopeo, infatti parlo bene anche in napoletano. Ho vissuto tra Napoli e la Puglia per poi trasferirmi circa 25 anni fa a Cremona. Mi direte, ma non ti manca il mare? Però c'è il po'. Dai, non scherziamo, non è la stessa cosa. Infatti il mare, così come la mia terra, mi mancano moltissimo. Anzi, quando posso non perdo occasione per parlare in dialetto. Sapete, le tradizioni, le nostre radici, sono cose che non bisogna perdere, vanno tenute ben strette. Avendo parenti ovunque, ho appoggi anche a Roma, Milano, Torino e chiaramente anche a Napoli e Lecce. Mi nutro di cinema e di musica. Adoro i musical e amo ballare. Sono un ex ballerino e istruttore di balli latinoamericani. Leggo molto e ho l'obbì della scrittura. Beh, che altro dirvi se non speriamo di rivederci su sette. Ciao! Grazie! Grazie!